Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Nel video precedente avevo parlato che avrebbero fatto un secondo film. Vi avevo anche detto che se c'erano novità ne parlavo nel prossimo video. Infatti ci sono delle novità. Purtroppo non sono delle novità belle. Allora, prima di tutto hanno confermato che la nuova stagione, quella che uscirà a primavera, sarà l'ultima stagione proprio della serie. Dopodiché la serie la fanno finire. Io mi rendo conto che in passato è stato detto già alla terza stagione e la quarta non si fa, poi arrivava la quarta e la quinta non si fa. Cioè, in pratica ogni stagione doveva essere l'ultima. Però non c'era nulla di ufficiale. Invece stavolta, purtroppo, è ufficiale perché è stato detto proprio dai produttori. Non so perché hanno deciso di farla finire, perché è una serie che va. Dicono che devono fare la quinta generazione o spero che sia bella. Un'altra cosa riguarda il film. Allora, il film pare che in realtà non ha nulla a che vedere con quello precedente. Ma è un film a sé e non è chiaro se questo film a sé faccia vedere cioè sia sulla quarta generazione, quella che stiamo vedendo ora oppure se sia la quinta generazione, quindi come un trampolino di lancio. Non sia chiaro. Fatto sta che dobbiamo soltanto aspettare e vedere che succede. Io devo dire che l'ho presa abbastanza bene. Perché? Perché in realtà anche se fanno finire comunque la serie non ci dimentichiamo che c'è una serie alternativa che sta andando avanti che per ora non la bloccano hanno deciso di non bloccarla che quella mi è andata nel mondo umano anche se comunque non è la stessa cosa perché gli episodi sono di un minuto ciascuno quindi alla fine esce sì una volta la settimana però un minuto non puoi dire niente però è già qualcosa per me anche se comunque se fosse per me cioè io l'avrei fatta continuare all'infinito perché è una serie che spiega veramente il vero valore dell'amicizia un valore che si è perso col tempo con l'avvenuta di questi nuovi telefoni con queste nuove applicazioni ormai stanno tutti dietro a un telefono e si è perso il contatto umano invece questa serie ti insegna veramente cosa è l'amicizia e poi ti fa capire che un amico non può essere invidioso o altro quindi una serie che secondo me continua cioè dovevano mandarla avanti se non l'hanno fatto non lo so avranno avuto i loro motivi io non lo so fatto sta che io spero che la quinta generazione che è sempre sono sempre cavallini c'è sempre loro spero che venga di nuovo fuori il vero valore dell'amicizia cioè fanno anche una serie alternativa magari che sarebbe la quinta generazione però sempre con questa cosa di far prevalere l'amicizia io lo spero perché cioè è una cosa che a me cioè mi piace come devo dire infatti io guardo questa serie da quando c'ho 21 anni anzi no da quando ho fatto 20 anni mi sembra in pratica l'anno vabbè che mi son diplomata che avevo 20 anni e praticamente io per sbaglio ho messo ho cambiato un po' di canale ho visto che si faceva un quartone animato vabbè mi son messa a guardare e da lì me ne sono innamorata perché è stato per sbaglio anche se questa serie comunque esisteva già da prima io non sapevo l'esistenza di questa serie quindi non potevo guardarla da prima e purtroppo purtroppo come la vita tutto finisce quindi alla fine anche la vita stessa cioè se ne frega del singolo individuo perché tutti prima o poi ce ne dobbiamo andare io spero che esisterà di là e tutto però tutti prima o poi ce ne dobbiamo andare che prima e che dopo purtroppo è il nostro destino però alla fine la vita continua cioè nel senso che per esempio io tra cent'anni non ci sarò più chiaramente però ci saranno comunque delle persone delle persone che prenderanno il posto mio stessa cosa con le serie quindi alla fine noi non è che dobbiamo vedere come un qualcosa che è finito ma noi secondo me dobbiamo vedere questa cosa come ciò che è stato e pensare che è stata diciamo una bella esperienza per noi guardare tutte quelle puntate guardare tutti quei cavallini quelle cose e quindi che dire ragazzi io spero che sono stata chiara in questo video cioè mi dispiace avervi dato queste brutte notizie ma spero che ci saranno anche belle notizie quindi a presto ragazzi grazie 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 grazie